Ciao a tutti, oggi parliamo di un tema che è un po' collegato con la monetizzazione e le criptovalute ed è la Deepox, Adipocalips, scusate, è una parola un po' complicata e in che cosa consiste? Qualche giorno fa è uscito su un blog di SEO e marketing molto seguito in Italia appunto questo problema dell'Adipocalips che in poche parole consiste nel fatto che YouTube e Google se uno tratta dei temi diciamo un po' spinosi che hanno a che fare con la guerra, il terrorismo eccetera eccetera succede che questi video hanno meno visualizzazioni di pubblicità e quindi anche un introito minore per quanto riguarda lo YouTuber e questa cosa si sente anche in Italia, alcuni YouTuber hanno sollevato questa questione e qui ovviamente Adisense che ha quasi il monopolio della pubblicità su internet può permettersi di fare un po' il bello e il cattivo tempo a me qualche tempo fa era successo appunto che avevo pubblicato su un blog una foto di una pera che assomigliava un po' a un pene e dopo due anni ho ricevuto una notifica su Adisense che mi dicevano appunto di togliere quella foto altrimenti mi avrebbero disattivato l'account poi in realtà io la foto non l'ho tolta e mi hanno disattivato solo la pubblicità su quel determinato post altri hanno avuto delle diciamo vicissitudini un po' più gravi con Google però personalmente io non ho avuto tanti problemi di questo tipo nel senso i miei video bene o male sono tutti monetizzabili e questa cosa però per alcuni YouTuber o videoblogger non va tanto bene e quindi il mio consiglio comunque è di provare anche Stimit che appunto è un social che ha una criptovaluta associata e sicuramente può essere un altro modo per monetizzare i propri contenuti e sempre collegato a Stimit una cosa che è successa negli ultimi giorni è stato quello di questa ragazza che lei pubblica praticamente delle sue foto che fa teatro quindi cose assolutamente normali e qui si vede proprio il funzionamento di Stimit come la comunità di Stimit può reagire nel giro di poche ore per diciamo sanare dei comportamenti non tanto corretti lei nel suo post appunto lamentava il fatto che gli erano state rubate delle foto e come gli screenshot che lei stessa mette un altro account di Stimit aveva preso le sue foto quindi due ore più tardi e praticamente iniziava a monetizzare con le sue foto questa cosa è durata diciamo qualche ora poi le whales, le balene di Stimit ovvero gli account di Stim che hanno molto potere molta influenza sul social effettivamente hanno seguito questo appello infatti come vedete questo post copiato guadagnava 21 dollari e praticamente gliel'hanno affossato e appunto questo account adesso è ancora attivo però bisogna schicciare show per vedere appunto i contenuti e anche il scusate internet è un po' lento ok e adesso praticamente questo post vale zero quindi praticamente gli hanno annullato tutta la remunerazione che potevo ottenere sul social Stimit ovviamente questo social non è legato alle criptovalute ognuno può scrivere quello che vuole ci sono account appunto questa è una ragazza cinese che parla di viaggi e appunto i suoi post sono molto curati e come si può vedere fa dei guadagni niente male per ogni post e ovviamente questo non vale per tutte le categorie per esempio in italiano il guadagno medio di ogni post è abbastanza variabile però appunto è interessante vedere come un social network con decentralizzato basato sulla blockchain effettivamente può moderare e in qualche modo gestire anche questi tipi di abusi e quindi secondo me una persona che crea contenuti e vuole trovare qualche modo per monetizzarli sicuramente è qualcosa da provare perché comunque non costa nulla è un social come altri però appunto ha questa particolarità di poter essere monetizzati in una criptovaluta che poi può essere convertita in bitcoin o in altre cose se non vi siete ancora iscritti a Steemit iscrivetevi e seguitemi io sono appunto Luigi Tecnologo su Steemit schiacciate su follow e mi potete seguire e per adesso è tutto e ci vediamo in un altro video ciao